Piacenza in vantaggio con gol di Morra al settimo minuto del primo tempo, un'azione dei Biancorossi sulla destra, la palla rinviata corta dall'Ecco, lui prende palla, limite dell'area in posizione defilata, calcia sul primo palo, sorprende Melgratia, Piacenza in vantaggio per 1-0 con il terzo gol di Morra in campionato, inizia benissimo la partita dei Biancorossi, veramente una fucilata, lui era al limite l'area molto spostata, all'altezza del vertice, nella linea difensiva destra dell'Ecco da posizione complicata, calcia molto forte sul primo palo, la linea difensiva del portiere si fa tornare un po' preparato, l'Ecco subito in avanti, rinvio fortunatamente di Gonzi su una palla che diventava pericolosissima perché l'Ecco immediatamente ha reagito ed è entrato in area con due tocchi ed è riuscito ad andare sul fondo a crossare un raso terra molto pericoloso, Gonzi è andato da quinto a fare la diagonale difensiva ed è riuscito ad anticipare tutti, adesso è ancora Letty in attacco, ma dicevamo Piacenza in vantaggio che adesso riesce a rinviare il pallone, per cui ridò la linea alla regia, 8-20 del primo tempo, ma quello che conta che è l'Ecco 0, Piacenza 1 a te.